Sono le 19, vediamo che è uscito, vai, sfide creazioni rosa, oh mio Dio non ci credo, cosa sarà mai uscito? Ogocia, close, aggiorno, no stava già nei preferiti, rifallo da capo, rifallo da capo, rifallo da capo Sono le 19, vai, andiamo, vediamo cosa è uscito nell'SBC, wow, incredibile, Ogocia, close, peccato, 70 Oh mio Dio, aggiornamento icone, scherzavo, l'avevo già visto, però mi ero dimenticato di mettere alla registrazione, vabbè, aggiornamento icone è uscito, dai, solo una ne posso fa' Solo una, manco per sentire cotto, sono più grande di tutti, vai, prima sfida fatta, 87, buttiamo tutti non scambiabili, Misty Prime, Boom Baby Bye Spero che, sono usciti due promo? Due pacchi promozionali, proprio due, due morenti Cioè, da una parte è meglio che ce ne sia solo una, perché almeno non me devo svuotare club, dall'altra però, magari facevo il content su YouTube, però Ermago che giocatore, raga, Ermago, mamma mia, Ermago, mamma mia, che gli vuoi dire, Ermago, raga, che gli vuoi dire, Ermago, non gli vuoi dire niente, boom Seconda sfida fatta, olè, altra sfida fatta, incredibile, non ci credo, non ci sto credendo, non ci sto veramente credendo Perfetti, perfetto, già fatta l'Icon, mamma mia, fra Te prego Speravo di morire prima Sottì per primo Armando a falla, sì Sottì per primo Armando, non voglio fare io la cavia, però Dai, qualcuno che c'è, aspetto qualcuno, dai, però se poi scula quello Se poi scula io non sculo Migliore Icon È il caminanti, bussa Allora, è il momento del nascondino, sì, sì, ho capito che siete in due, sì, ho capito, ho capito Non devi guardare che stai nel party Non guarda Allora, siamo pronti al nascondino Ma com'è Bobby Moore? No, non è Bobby Moore Fatemi fare nascondini, bus Allora Qualità speciale Non mi ricordo più ai nazioni Goalkeeping, facevo subito goalkeeping io Buono, buono, buono goalkeeping Buono Italia Non è Italia Argentina, Argentina Diego Armando Non è Argentina, ragazzi, ragazzi Spagna, Spagna Vabbè, non è mai Eusebio Eh, non è mai Eusebio, ragazzi, questo non è cambiato Brasile, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda Chi levo? Inghilterra, sì PEM Oddio, oddio Brasile, Francia, Germania, Olanda, regà La prima Icon La prima Icon Germania, Germania Oddio Oddio, oddio, regà Brasile, Francia, Olanda, regà Oddio, oddio Olandi, bus Oddio Brasile, Francia Oddio Oddio Oddio, oddio, oddio Oddio Sorrei, sorrei 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 Non è Olanda, non è Olanda Non è Olanda TS, Petit, Petit, Petit No, Petit, disgusto, disgustoso Sì, sì Dici, dici Oddio, 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 oddio Oddio Full Francia È brasiliana Oddio Oddio 3, 2, 1 Pelé Vabbè 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 Non è male Aspinacina Oh no È il nome letale Nascondino coi ruoli No, nascondino vero Oh, finché ero nascondino Regà, finché droppa il nascondino Si fa il nascondino Poi quando vediamo che il nascondino Troppa Pippo Inzaghi Allora forse diciamo no Forse il nascondino non è proprio La crema della crema Argentina Ok Espania Ok Vado con l'Italia 3, 2, 1 Italia Ok Ok Fra io levo l'Inghilterra Questa me puzza Bello Brasile, Francia Germania, Olanda Eh, purtroppo non è mai Eusebio Purtroppo Brasile, Francia Germania, Olanda Ho saltato il Galles Vabbè Ti pare che è Galles Stanno trovando pure le mid Ma state a gioca No, regà, dai, seri State a gioca Trovano le mid Subito Dicono che stanno a dare le mid Oddio Ma come Pelé Mid ha trovato questo? Si, in che senso? Questo ha trovato Pelé Mid Corri Posso farlo il nascondino Basta che la apro l'Icon Sennò poi se la riprendono i bastardi Dai Dicati Via, Lai, con 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 Lai Ragazzi Mandate le clip Chi è che ha trovato le prime? Castro Pelé Moments Appena si chiudono le bet Questo è l'account mio, eh Già giusto per inciso Sono dovuto aprire in speedrun i pick perché dicono Ah, droppano le mid Non ci credi Io non ci credo Non è portiere, sì Non è portiere Meno male Speravo di morire prima Se era portiere Sono finito e se è bet Burgaria Ok Ok Camerun Ok Croazia Ok No, mi serve la musica, sì No, devi sta buono Devo, devo un attimo Danimarca Olè Finlandia Olè La mia prima icon di FIFA 22 Non ho mai trovato un icon Ho aperto non so quanti FIFA Points Mannaccia Top 9 Spagna Diego Armando Chi levo Spamma Spamma Roby Baggio Roby Baggio La prima icon del bianco Vabbè, oh, Roby Baggio Sì, Roby Baggio Come fai ad essere arrabbiato con Roby Baggio Ma è il mid Ma com'è il mid Che car... No, no, no No, no, no Regà, Baggio non è il mid Perché Baggio È il mid È il mid Oh, buono Baggio Mid Sì Oh, ma Ehi Baggio mid Oh buono Robby Robby Baggio regà non puoi essere arrabbiato Cioè se trovi Robby Baggio non puoi essere arrabbiato Come puoi essere arrabbiato Ho rotto FIFA Trovo icona mid in icona baby garantita Gologante per noi Icona base che poi potrebbe essere pure mid Nascondini bus Zero Mechico Bello zero Mechico Zero Mechico Zero Nigeria Vai Mamma mia oggi la sbanco a tutti Oggi la sbanco a tutti fra me lo sento Regà No tocca levare tutti i difensori DC Oh no Ma magari già ce l'aveva È in vantaggio Però nel senso è baby Quale stiamo a trovare mid Le con i baby so per i poveri Le con i baby so per i bobbi Gologante Ci siamo Bum Dacci un'altra mid Però una mid di quelle succose Cioè una mid veramente di quelle proprio saporite Una mid Una mid Una mid Gusto paprika Gradirei Una mid al gusto paprika Via gli olandesi Mortacci tua Mortacci tua Però è Francia o Brasile Francia o Brasile Francia o Brasile Regà E non è difensore Oddio Non è difensore Ed è Francia o Brasile Caminante Caminante Aspetta 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 Leva tre seghe Leva Titi Harry Mortacci tua sveglia di ottagonale Leva Fra è caldissimo Non è Non è Francia Non è Francia Brother E Brasile Non è Oddio Oddio Buono Buono Buonissimo 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 Garrinci